In crisi non è tollerabile che Renzi e Lupi facciano leggi per vendere le case popolari e che poi la regione metta in campo piani di sgombero per fare i soldi sulle nostre case e sulle nostre vite. Resisteremo a sfotti e sgomberi e la dimostrazione del fatto che la nostra causa è giusta e che ogni giorno siamo sempre di più ad ogni SMA, siamo sempre di più in tutto a Milano, siamo sempre di più in questo momento, oltre a questa manifestazione a Giardino, ci sono in piazza, a chiedanti, a Giardino, a posto e solo, a ricorda, a posto e altro, a colpato, indiscidente, oltre 10 martelli, per dire, posto a sgomberi, a segnare subito tutte le case nuote. Questa è l'unica soluzione a rinascimento di pativa. Sì, adesso è l'unica soluzione a tutti gli abitanti e i bambini, a tutti gli abitanti, in questa via i bambini ideali ha lasciato la bambina da più anni, ha lasciato la bambina da più anni, ha lasciato la bambina da più, ha lasciato i suoi interessi, del fede e dei piacere raggi, del grado e del grado, il grado e del grado, lo creano, chi ci governa, abbandonati i quartieri popolari, gli abitanti di questi quartieri sono le vittime delle politiche e si è in campo tutti i giorni, c'è la lega, da chi da vent'anni governa la regione della partia e per questo che ci stiamo organizzando in tutti i quartieri per riprenderci la dignità, per fare in conto che questi alloci non vengano venduti a prezzo di mercato alle banche come invece vorrebbero, in questo quartiere esistono decine di associazioni che sono solidarietà di loro, associazioni che tutti i giorni fanno la tua scuola, fanno aiuto compiti, fanno quello che dovrebbero...